I lavori del Teatro Auditorium, all'ex Quisisana, ad Arco, stanno per prendere il via. La firma del contratto tra la nuova impresa di costruzioni e il comune di Arco, infatti, è ormai vicina. Il riscontro è stato positivo sotto tutti i punti di vista, ha dichiarato il sindaco di Arco, Alessandro Betta. La procedura sta andando avanti piuttosto snellamente e con buone prospettive. L'iter burocratico sta rispettando le tempistiche annunciate da Betta, poco dopo essersi svincolato dall'impresa di costruzioni Azzolini. Vista la positività dei riscontri fatti su tutti gli incartamenti, continua Betta, abbiamo provveduto a far stilare un nuovo contratto. Ora si trova al vaglio del segretario comunale che dovrà verificarne la lecceità. Se il segretario non dovesse trovare errori di forma, spiega fiducioso il sindaco, si potrà passare alle firme. Dopo un lungo stop e tante preoccupazioni, sembra che per il teatro Auditorium di Arco sia imminente il riavvio dei lavori.